Il World Urban Forum di Napoli sta per aprire i battenti. Venerdì scorso la cerimonia dell'Alza Bandiera aveva sancito l'appartenenza temporanea del territorio della mostra d'oltremare all'ONU. Nei giorni della convention sono previsti oltre 160 eventi tra tavole rotonde, dibattiti e seminari, ai quali parteciperanno, secondo le stime, più di 150 paesi con oltre 10.000 rappresentanti accreditati. Questa mattina invece si è svolto l'Urban Bike Tour, appuntamento che rientra nella campagna Ames City Changer, promossa dall'agenzia dell'ONU Unabitat. Insieme alle associazioni FIAB e Cicloverdi, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il direttore esecutivo dell'Unabitat, Joan Closs, hanno percorso a bordo della bicicletta il tratto di pista ciclabile del lungomare liberato da Piazza Blebiscito a Rotonda Diaz, visitando anche il cantiere dell'arena del tennis che ospiterà la Coppa Davis e fermandosi a Piazza Vittoria per una sosta. Il tour si è concluso con un incontro presso Castel dell'Ovo che ha visto protagonisti il sindaco di Napoli, il direttore Closs, il sindaco di Stoccarda e presidente del Consiglio di Municipalità e Regioni d'Europa Wolfgang Schuster e il segretario generale città e governi locali uniti Joseph Roig. L'iniziativa di oggi aveva lo scopo di rilanciare l'uso della bicicletta in città come importante mezzo per poter realizzare una mobilità sostenibile, che renda a misura Duomo i nostri centri urbani anche in termini di qualità ambientale. Oggi le città devono essere decongestionate dalle macchine, la bicicletta è un mezzo di trasporto straordinario, economico, compatibile con l'ambiente, fa bene alla salute e viene utilizzato in tutto il mondo. A Napoli lo stiamo utilizzando da poco, la risposta dei cittadini è importante, quindi era assolutamente indispensabile un giro con quanto posso per il buonare di Napoli, per Piazza Vittoria, per le strade della nostra città. Lo ringrazio per questo e penso che sia un messaggio importante da una città del sud.